erano in due a cura dvb giunse a casa che faceva caldo l'accolse l'aria viziata dell'ambiente sempre chiuso era stata una stupidaggine non andare a mangiare in trattoria o da qualche amica alla fine di una giornata così nera e adesso doveva pure riacquistare uno straccio di equilibrio per meditare come ogni sera oppure doveva meditare per riacquistare l'equilibrio alle 8 aprì il frigorifero che era quasi vuoto rimase davanti allo sportello aperto nel congelatore due panini all'olio e nel frigo una tavoletta di cioccolata all'arancia degluti era accaduto tutto troppo in fretta la luce del frigorifero la fissava paziente chiuse lo sportello e su un post it scrisse domani durante la meditazione dovrò entrare in profondità nella nube d'oro per ricaricarmi nel forno a microonde scongelò un panino lo aprì e ci mise la tavoletta di cioccolata pensava come il direttore l'aveva giubilata una castrazione bella e buona adesso però che l'avevano relegata in biblioteca avrebbe avuto liberi un pomeriggio a settimana e più tempo per meditare mantenere i contatti con gli amici di facebook mentre mangiava si dondolava tra il frigorifero e la lavapiatti era molto giù si sedette al tavolo e accese il televisore sempre le stesse notizie delinquenza scandali leggi finanziarie il presidente della repubblica che invocava l'unità del paese e il papa che invocava la madonna e il governo che invocava le riforme e l'opposizione che invocava gli scandali spense il televisore con un profondo senso di saturazione era certa che il paese in cui aveva trovato lavoro aveva un'evoluzione media inferiore alla media europea e viveva quindi la qualità della vita che si meritava ma il costatarlo ancora una volta non la faceva stare meglio passò nella camera da letto frugò nella libreria e trovò i suoi appunti sulla meditazione si distese sul letto e li esaminò dal giorno dopo avrebbe avuto molto più tempo per se stessa e poteva aggiornare il suo programma per avvicinarsi alla non mente chiuse gli occhi osservò il lungo cammino che l'aveva portata a meditare si era sempre domandata quale fosse il passaggio migliore per collegarsi con l'invisibile e alla fine si era risposta la meditazione e si era comprata un'altra vita dopo il lavoro quando la sera piegava verso la notte si distendeva sul letto sovrapponeva due cuscini e vi appoggiava il gomito sinistro chissà perché accendeva sempre il registratore e lo metteva in rec sospirava e si abbandonava a quella posizione la testa crollava sopra le spalle fino a dove poteva abbandonarsi senza che il sonno la prendesse egli si spingeva fin là poi arrivava lo schianto come lei lo chiamava un passaggio dolce e potente che saliva dentro di lei e si spalancava in una nube incandescente lo schianto una nube d'oro che svariava in un giallo color oro egli allora incontrava ciò che la trascendeva che non era riducibile a se stessa quando raggiungeva questo livello di meditazione non poteva dire con che cosa lei creava un ponte perché il collegamento avveniva in varie maniere il ponte poteva essere con il suo se superiore o con la dimensione psichica di qualcuno qui aveva pensato oppure con qualcosa che incontrava del suo passato il ponte diventava un'apertura a ciò che lei chiamava l'infinito innumerevole ma che cosa faceva da tramite tra lei e l'infinito innumerevole l'abbattimento del suo io se egle metteva l'io a tacere si trasmutava scalava se stessa e diveniva certa che la sua meditazione oltre alla sua vita poteva migliorare quella degli altri grazie alla percezione onnicomprensiva del reale da questa profondità egle compenetrava molti aspetti della sua vita e presto avrebbe accettato e quindi compreso la caduta in disgrazia nel suo lavoro infatti la meditazione l'avvicinava al proprio essere alla qualità di ogni rapporto al fondo unitario su cui si basa la vita egle si scioglieva in una meditazione che poteva scendere sino alla contemplazione e condurla a una maggiore comprensione non solo di se stessa ma di se stessa negli altri dunque erano in due la contemplazione e lei oppure lei e la contemplazione erano un solo essere egle aprì gli occhi e si trovò di nuovo nella sua camera da letto dall'appartamento di sopra veniva il chiasso di una partita di calcio staccò il braccio addormentato dai cuscini e si mise seduta sul letto fu certa che lei e la contemplazione che conosceva come la figlia prediletta della meditazione erano state un solo essere taglica calcio Grazie a tutti